livello uno a rudy sta giocando ecco bene si però non lo sentiamo stava mangiando mi senti mi senti sì 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 diatillo bruno figlia in alto ecco ma se lo trovo sì no c'è un caricatore energetico esteso qui livello 1 tornerebbe utile che l'ho trovato l'ho trovato mio 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 cos'è mio qui c'è un hop up selettore di fuoco mi servono munizioni energetiche qui ci sono munizioni energetiche qui c'è un calcio per cecchino livello 2 ne ho bisogno no no prendilo tu bruno no prendi tanto un ricercino qui c'è un hop up selettore di fuoco che c'è un ottica da cecchino prendo io sì sì infatti lo prendo io quello bruno quello lì ti deve servire come l'acqua è perché anch'io ce l'ho a radius sto giro è mai tra un'altra anche per te bravo ma ce ne sono due fabi ce ne sono due a due minchia c'è chi mi manca di due livello 31 livello 2 vai fra prenditi radios pure tu che spacchiamo tutto io non ho né scudi né troviamo una cosa di buona da questa parte mi servono munizioni energetiche abbiamo capito bruno su porca di quella puttana mamma mia si si no no ma già ce l'ho no era proprio Flavio perché come mi ce lo prende anche lui radiosi io facciamo tipo tre raggi laser ogni volta qui c'è una siringa che si cagava in maniera io manco lo zaino c'avevo che schifo qui c'è un casco livello 1 chi è che non ce l'ha ancora bruno ecco andiamo qua qui c'è una porta chiusa braga mi sa che c'è qualcuno sono qua sopra no no giù 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 quasi muovo bravo ce n'è ancora uno e basta Flavio ok ok perfetto bravi bravo ti voglio bene silenzio silenzio che potrebbero esserci gente minchia tutti io li ho fatti fuori minchiata io l'ho fatti fuori io tre mi ho adesso di minchia che passi saldo dai non è giusto però vabbè che se ne frega importante il gioco di squadra la cucina noi me ne ho fatto lavoro di squadra non sembra un cazzo levati i cake che mi sto assurando il tuo bastardo dove è che è morto l'altro sapi? eh dopo il cancello l'ho visto basta dire una volta guarda come ho messo le barriere fammi per favore guarda adesso a forma di pisello sicuro ma va non ho coperto neanche tutta la porta che coglione no no raga io direi una cosa c'è l'anello eh ve lo dico saluta mille no saluta mille ma sempre corre ma sei qua papi flavio vieni su flavio l'anello qua si chiude guarda flavio guarda dammelo io intanto mi metto qua alla pazzazza vostra nooo eh ma devo farlo su Fabiano tu non mi guardi guarda eh Fabi fermati un attimo Fabi fermati fermati vieni giù vieni giù Fabi aspetta eh guarda via si ah il caglio andiamo da questa parte ah no il caglio in faccia pazzote lo caglio fatta eh prima prima ah vero esattale prima raga l'ho fatto Flavio l'ho lanciato tipo metri sa dai gaetani indiano la piazza portale ma fai quel cazzo vuoi così io già parliamo di arrivarci un po in orario nostro cazzo di anello che già perché dove dobbiamo passare sto cazzo di di strada non passiamo di qua fatti passiamo di qua fidati cazzola di rifornimenti aperta io ci vado se volete seguire ma io seguo se vuote la blu vediamo tutti insieme anche il tanto non abbiamo tempo per guardare accelerante alti mate mi servono le siringhine il cielo fru no minchia bru io ne ho 16 16 siringhine prendile tutte quelle che vuoi mettere all'anello e un minuto di tempo ecco tra viaggiato solo io sono a metà e buono sta prendendo le droghe perché si può evitare ne vene due cazzo possibile l'ho detto andiamo indora piazza portale tiragini ma voi sentite sparare da qualche parte no ora da solo no 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 niente una foglia no 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 niente una foglia no no che se io ho già famigliato triangolo e stava già schiacciando r2 per sparare mentre una foglia che scendeva dal cielo attenzione il leader uccisioni è stato eliminato godo pezzo di merda ti avessero a scoppiare a vinerà a fronte a fronte di cielo qui ci cura di venere tu cazzo oh quanto è bello sto cazzo attenzione sei un cagato oddoso prima per far sta risata dai così che è delettura qui ci sono munizioni energetiche pesanti pesanti il mio cazzo se lo vuoi vai che sono a casa fino a mercoledì quanto godo sborro sborro fino a mercoledì minchia quindi ti diverti tu bru faccio un cazzo ma da partire da ora cioè da oggi minchia qui si gli hai fatto il pompino il capo o come mai ma no ma noi ogni due settimane abbiamo due giorni in più di riposo direi di muoverci verso questa parte e raga stiamo un po' qua adesso non andiamo troppo esagerati aspettiamo qua tanto abbiamo due raudius raudius che è un raudius è tipo il petardo cazzo è un raudius allora là c'è una flavio com'è che si chiama il raudius in tedesco ma qual è il raudius raga hanno aperto la cassa forse si si ci sono nemici state fermi non fate niente io sparo perché se ci attaccano guarda uno è lì dentro due minchia 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 gli ho spaccato lo scudo io sono dietro lo scudo di Flavio vai vai dai che si stanno mattando raga attenzione Fabi c'è la finestra e io da lì lo stavo sparando prima sono due squadre dalla finestra eh ma non vedo nessuno in quella finestra di merda chi è chiusa la porta eh però ci sono raga ci sono dentro adesso giù guarda è un po' qua è un po' qua suono eh lo so ma fa un male cane solo che non so quanti ce ne sono lì dentro Flavio si mette davanti eh quello c'è l'armatura viola conti dai coglioni vai te coglione va e sto sparando raga io adesso piazzo un portale e ci mettiamo la vai 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 e poi ho già spaccato la allora ci sono due zip line raga piazziamoci già lì per favore raga c'è una zip line la 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 dobbiamo andare là c'è una zip line là dobbiamo prendere andare su perché tutti passeranno o di qua o vicino io non ve lo dico più eh Flavio t'arrangi sì perché è troppo rischioso io starei qua noi abbiamo due radios dobbiamo stare in un punto in alto io sono qua vengo lì gli scassa sciami voi che siete oppure andiamo là 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 girati dietro qua deciditi porca puttana no no è perché qua c'è la zip line capito? dai una cosa veloce raga ehi ciao bravo Bru quindi dove puoi andare Fabi qua ci stanno sparando a me e dovete venire sopra perché sennò usano la zip line dove sono? ah un gruppo è anche là minchia raga c'è troppo bordello secondo me si affrontano due squadre ce ne andiamo qua veloci 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 raga c'è troppo bordello ci sono già troppe squadre prendiamo sta zip line ci posizioniamo dentro l'anello qua se riusciamo qua sopra da questa parte un minuto l'anello è abbastanza vicino minchia non ci sono non ci sono arrivato che mongolo che porco di almeno così siamo minchia ce n'è uno c'è un octane qua voi state su che io arrivo state su e sparate ci vedete qualcuno ah qua no raga c'è qualcuno porco via ricarico raga andiamo fin indietro 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 eh uno è là bru perché ci sono cinque squadre nooo bru scendi 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 stai lì stai lì stai lì stai lì i miei circuiti si stanno riconnettendo raga dobbiamo andare raga c'ha il crade ecco perché è così forte ah ecco perché un colpo mi ha spaccato lo scudo oro un colpo mi ha ammazzato più ah sono là in alto andiamo da questa parte sto ricaricando i miei scudi andiamo in questa casa qua raga c'è eh sì nemico molto vicino ce la fate? io ci provo tengo gli occhi aperti per altri c'è un nuovo leader uccisione inizio con la roca non mi ricarico gli studi ricolo certo nooo porco dio nooo un altro e che cazzo non vengono si faranno nemmeno un calazio mi stanno sparando ricarico gli scudi portate spostiamoci qui porca la madonna puttana vergine schifosa meno male che sono scarsi questi io provo a venire verso lì è brutto c'è quello col crabber che se mi becca mi fa fuori in colonna minca lo sento sparare piazza barriere a bomba bru barriera piazzata se qualcuno passa da qui mi sa quasi chiude sì sì che troppo rumore in battaglia silenzio ora minca grande piazzane altre di barriere sempre dalla stessa porta sto chiamando un bombardamento nooo dovevi farlo dopo fla ah ma si carica subito che c'è eh lo so però era meglio se lo facevi quando il cerchio già era qua che beccava tutto il raggio figa se entrano anche così c'è ficcati il problema è che loro sono sopra di noi e quindi anche loro sono messi bene per quello dovevi fare il bombardamento dopo ok legge vabbè non hai degli acceleranti alti mi fa? eh come si sembrano siringhe scudi attenzione sento i passi buttateli per terra se avete tante siringhe scudi eh sì scudi no tanto sono qua sopra laga loro eh è una squadra sopra di noi è una squadra ancora più sopra chi è che le sta spezzando? basta è lui è cellino non è che le puoi mettere ci vuole basta così sta lì a rodi ci voleva il drone vieni vieni via dalla dalla tanto passi attenzione 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 tanto lo sanno che siamo dentro non entreranno mai qua se avete anche un caustic eravamo una bomba poi l'anello si chiude anche qua poi fai il bombardamento qui c'è e adesso spengo eeeh come spengo eeeh per dire fla appena ti chiude questo anello lancia il bombardamento anzi anora no quando si chiude quando rimane solo questo pezzettino qua perchè c'è anche sotto sotto questa casa qua sotto questa casa qua c'è il c'è un posto c'è un posto giù ok quindi loro si riparano il posto qua dove siamo noi raga non possiamo più uscire si qua quindi di là niente guarda dove è l'anello raga cosa si chiude si lo è basta tempeste 92% ma bravo che stai facendo ah ve lo so vedere tanto non possono entrare al massimo non mi vedo non mi fa niente guarda che ci sono loro sopra raga ah minchia la so bravo eh sì inchia no levati stai fermo vedi che si levano fermo e te dite una parte fermi ma che devo togliere tanto togno le barriere con le dietro ma nello si chiuderà tra un minuto ma raga quanto ora si chiude l'anello si si quattro è lì su un piatto o piatto un portale ma dove cazzo piazza sdobbiareci ah raga è l'ultimo anello questo è quello che si stringe no è quello che rimane in cerchio no bruno vedi una mappa c'è ancora uno esatto esatto quello che rimane in cerchio siamo vicini alla rana restano 30 secondi ma beh si stringe dove c'è Flavio praticamente no un po' più va si stringe qua raga qua dove sei te ma dove lo vedi oh ma non è che il maggiore questo vai in cerchio ma non si chiude più raga no si chiude guardate qui c'è l'anello arancione nel nostro anello piccolo raga adesso c'è da sparare dobbiamo andare no Fabi dove hai che vai via 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 si chiude si chiude raga no no cazzo raga dovevate stare solo nel cerchio eh siamo rimasti nel cerchio no eravate fuori tutti due buh io non so che ha vinto sinceramente eh ha vinto uno che era nel cerchio fermo abbiamo i nostri cantini io non l'ho capito però vabbè io l'ho visto tutto in diretta eravate tutti davanti a me eh ma io uno lo sono riuscito a buttare